Il Castello della Monica diventerà un museo della fantasia, sarà spazio espositivo ma anche residenza artistica, osservatorio astronomico, location per eventi e arena di spettacoli estivi. Destinazione poliedrica del monumento che sarà riqualificato e restituito alla città con un intervento da oltre 2 milioni di euro dalla regione. L'idea è venuta fuori da un gruppo di lavoro, costituito quindi dai tecnici comunali, dagli assessori a ramo, dalla dottoressa Di Felice e da Marco Chiarini. È un bel progetto perché all'interno del castello abbiamo chiaramente una riqualificazione del giardino che sarà fruibile a tutti quanti. Poi avremo un bookshop, una biglietteria, avremo un'area dedicata alla caffetteria, quindi anche chi semplicemente va a visitare il giardino potrà poi andare presso questa caffetteria, abbiamo i laboratori didattici e avremo un museo della fantasia. L'idea del museo della fantasia è una cosa che è stata lanciata da Filippo D'Averio quando è venuto qualche anno fa a visitare il castello, quindi abbiamo recepito quest'idea e sicuramente lo coinvolgeremo in questo progetto. Noi crediamo che il castello della Monica, così come è stato indicato e con questi interventi di recupero, potrà dare veramente un rilancio dal punto di vista culturale e turistico per la nostra città. Sarà una struttura che chiaramente dovrà essere messa a reddito, quindi con un'attività di sbigliettamento. Abbiamo indicato anche tutta una serie di attività che si possono fare lì dentro, ad esempio si possono organizzare delle conferenze, piuttosto che degli eventi in giardino, piuttosto anche dei matrimoni. Quindi sono tutta una serie di iniziative che possono permettere alla struttura di autofinanziarsi e per ultimo, ma non meno importante, sarà quella di una sala dedicata al pittore della Monica. Quindi stiamo poi lavorando nei dettagli di ogni singolo contenitore per rendere il progetto il più appetibile possibile.